Ciao a tutti, sono sempre Coco Master Ragazzi, nuovo video sul fantacalcio Decima giornata del nostro fantacalcio Che sarebbe la quindicesima giornata di Serie A Andiamo a vedere i risultati Vi anticipo subito che Ho fatto 0-0 Ma ovviamente andremo anche a vedere i risultati Della ottava e nona giornata del fantacalcio Perché non ci ho fatto il video Andiamo a vedere i risultati Comunque queste sono le cuffie Andiamo a vedere i risultati Ok ragazzi, siamo qui nella schermata Allora, come potete vedere Io sono, aspetta che alzo un attimo Io sono a Ciderbolina Lo ricordo per i nuovi utenti Sono quello con la sistema dell'atletico Ho pareggiato 0-0 contro gli 11 apostoli Allora ragazzi Chierisco una cosa Dato che registro lo schermo del telefono Che però è in verticale Consiglio per vedere tutto lo schermo Di mettere o schermo intero Perché se lo vedete in verticale Oppure se lo vedete in orizzontale Oppure lo guardate in orizzontale Altrimenti non vedete tutto lo schermo Comunque 0-0 contro il Ciderbolina Contro gli 11 apostoli Andiamo a vedere Insomma come abbiamo fatto Allora noi abbiamo fatto 51 punti Mentre gli 11 apostoli Ho fatto 63,5 Meno male Perché Ragazzi questa giornata è veramente malissimo Anche perché non mi hanno giocato Né Gosens Né Nestorovsky Ma andiamo per ordine Ho schierato Allora Donnarumma Mi ha preso 6 Però più 2 gol subiti Contro chi giocava Era il Milan Contro il Bologna Mi pare No Non vorrei dire cavolato Comunque E quindi 4 Gosens non ha giocato E purtroppo L'ho presa nel Bip Bonucci Ha preso 5 Non me l'aspettavo sinceramente Teo Hernandez Mi ha segnato Però si è fatto pure il 2 gol Quindi Ha fatto tutto lui L'importante ragazzi È che mi Ha preso 6,5 Più I 3 I 3 punti del gol Meno 1 del 2 gol 7,5 Va benissimo Teo Veramente Mi stai dando Veramente gioie Incredibili Teo Hernandez Grazie Perché Senza lui Non so come farei Manolas 6,5 Anche Manolas Fa la sua prestazione buona Andiamo al centrocampo Perché ho schierato Pulgar E mi ha preso 6 Pianici Mi ha preso 5,5 Più il giallo 5 E poi Vaselli Mi ha preso 6 Più la munizione 5,5 Andiamo in attacco Perché ho schierato Nestorowski Come ho già detto prima Non mi ha giocato Higuain Subentrato Mi ha preso 6 E Skowolsen Che mi ha preso 5,5 L'ho voluto mettere Perché ho detto Vabbè La scorsa partita Ho segnato Ho detto Senti Questo Skowolsen Prima o poi Lo dovevo mettere L'ho voluto provare E non è che ha fatto Chissà che cosa però Gli do fiducia dai Andiamo a vedere Che avevo in panchina Perché in panchina Potevo benissimo Mettere al posto di un Gosens Avevo Cazeres Che ha preso 6 Però ha segnato Con la munizione pure E ho preso 8,5 L'ho presa nel Q Puntini puntini Cazeres mi ha segnato Non l'ho schierato Poi c'è Vabbè Chiesa ha fatto l'assist Però è stato anche munito Fofana Ha preso 7 Perché ha fatto l'assist Ed è stato pure munito E poi niente di che Comunque Andiamo a vedere Il mio avversario Che ha fatto 63,5 Mi è andato anche Abbastanza bene Stagiornata Perché Ho fatto anche Cioè Meno male che lui Non è arrivato Ai 66 punti E il mio avversario Ha schierato Stracoscia E ha preso 6,5 Più il gol subito Quindi 5,5 In difesa Lui è schierato Acerbi 6 Darmian 6 Delicte 5,5 Al centrocampo Lui ha schierato Brozo vince 6 Più la munizione 5,5 Lucas Leiva 6 Ha munito 5,5 Kayekon 5,5 Ha munito 5 Suso 6,5 Più assist 7 In attacco Lui è schierato Simeone 5 Orsolini 6 Ilicce 6 Meno male che Non ha segnato nessuno Da quanto Stavo vedendo Comunque Il mio avversario In panchina Aveva L'unico diciamo Che spicca In panchina È Zininski Che ha preso 7 più il gol 10 E niente Andiamo a vedere Un po' la classifica Come siamo messi Vi devo dire Anche i risultati Della ottava giornata Perché non ci ho fatto Il video L'ottava giornata Ho perso 3 a 1 Contro il primo In classifica Lo prevedevo Perché io ho fatto 70 e mezzo Il mio avversario Ha fatto 83 Vi scorro L'ascimento Vedete un po' I risultati vecchi Ho schierato Farias Come vedete Iguaini Che mi ha preso 14 E niente Il mio avversario Ha fatto un bordello Di punti Come vedete Guarda lì che roba E poi Andiamo a vedere Anche la nonna giornata Che ho fatto E l'ho ripersa Contro Rio Che ha fatto 65 e mezzo Vi scorro l'immagine I gol di Ronaldo E Caputo Aveva anche Quagliarella In panchina Io invece ho fatto Feci Perché Era la scorsa settimana 70 e mezzo Bonucci Mi ha segnato Teor Nandez Mi ha segnato Teor Nandez Segna Abbastanza Vabbè E poi questi sono I voti E sesto E sesto e ultimo Ci sta Dio Con 8 punti Allora ragazzi Diciamo che È un periodo Un po' di crisi Perché Nelle ultime tre partite Ho fatto un punto E basta Quindi mi devo Un attimo svegliare Ora vediamo Perché tra poco C'è il mercato Di riparazione Tra poco Tra qualche settimana E Vediamo un attimo Perché comunque Sto un po' Rallentando il ritmo Ero Ero C'era un periodo In cui veramente Le stavo vincendo Abbastanza Ora È un periodo Un po' Così e così Però Siamo guardi Su 6 Niente Vediamo come va E raga La prossima partita La giochiamo contro Michele Che sta Vediamo un attimo La classifica Michele che sta Secondo E sarebbe importante Vincerla Perché almeno così Vediamo se lo reggancio Però È dura È difficile Ragazzi Ci vediamo Un prossimo video Bella Siamo già a 6 minuti e mezzo Ci sta dai Il prossimo video Bella